E' iniziata alle 15.45 la giornata rettina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso qui al Monastero di Camaldoli per il convegno, una tre giorni che celebrerà gli 80 anni del Codice Camaldoli. E' un momento molto significativo per la nostra comunità perché è la prima volta che un Presidente della Repubblica visita alla comunità e poi anche per la ricorrenza del Codice di Camaldoli che è stato fatto qui e che ha segnato la vita del nostro paese. Prima del suo ingresso al Monastero la donazione di una bandiera tricolore realizzata con il panno casentino. Questa originale bellissima espressione del panno del casentino colorato dal bianco, rosso e verde e sarà il primo atto di generosità che questa terra offrirà al Presidente della Repubblica. Dal Codice di Camaldoli un'ispirazione per la nostra Costituzione, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo editoriale pubblicato da Toscana Oggi, da Camaldoli ha detto ancora Mattarella nel suo editoriale vengono orientamenti basilari che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento. Anzitutto la affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato. Il convegno si è aperto con la prolusione del Presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi ed è poi proseguito con la relazione storica tra memoria, storia e storiografia del professor Tiziano Torresi. Ci racconta un documento che se osservato attraverso le lenti della storia, questo sarà un convegno di storici può essere fonte di ispirazione ancora oggi. Anzitutto l'impegno dei cattolici per una società aperta, per una società plurale quindi non un approccio integralistico ai problemi ma la consapevolezza che dentro la storia e dentro una società complessa si sta alla pari degli altri con la forza delle idee. L'elicottero del Presidente è atterrato e ripartito dall'eliporto di Metaleto sempre qui nel comune di Poppi e alla sua ripartenza un fuori programma. Il Presidente ha voluto salutare i bambini dei campi estivi. Grazie!